Il Conservatorio Braga di Teramo compie 122 anni, un'istituzione prestigiosa e storica in Abruzzo recentemente statizzata con 250 allievi ed un corpo docente tra i migliori in Italia. Traguardi importanti che il Braga vuole festeggiare con una stagione musicale che apre al sociale, portando la musica direttamente a chi è meno fortunato, ai malati dell'ospedale Mazzini e ai detenuti del carcere di Castronio. Era uno dei nostri obiettivi due anni e mezzo fa quando ho cominciato il mio mandato sembrava un sogno e invece è diventata realtà, quindi in due anni e mezzo il Braga ha fatto davvero passi da gigante e la statizzazione ci ha cambiato proprio la vita in maniera positiva, certamente, quindi possiamo da quest'anno, già in parte abbiamo fatto lo scorso anno, investire con nostre risorse, con nostre forze sul territorio. Saranno due progetti distinti, Braga per il sociale che prevede dieci concerti presso l'ospedale, partiremo il 21 con la nostra orchestra sinfonica diretta dal nostro direttore fino a fine dicembre, saranno dieci concerti, due con orchestra, quattro in pediatria e quattro in altri reparti e poi il carcere. Il Braga statizzato riprende il suo cammino? Eh, finalmente, nel senso che il mio insediamento è avvenuto circa un anno e mezzo fa, devo dire che adesso finalmente possiamo svolgere la nostra funzione istituzionale, la nostra funzione istituzionale che è quella di fare musica, cioè di organizzare per la città e per la nostra comunità, per la provincia, dei progetti musicali seri, dei progetti musicali che vanno a colpire il sociale e soprattutto per i nostri allievi, per i nostri docenti, di dare quel prestigio che il nostro conservatorio dovrebbe mantenere nella nostra città. Da questo momento iniziamo una programmazione, guardiamo sicuramente al futuro e il futuro lo vedo veramente radioso. Tra le novità del palinsesto musicale del conservatorio Braga spiccano appuntamenti di musica jazz imperdibili.